Anche Piacenza, o sarebbe più corretto dire Piaziois, celebrerà la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, prevista per mercoledì 17 gennaio, e lo farà attraverso un appuntamento inedito e mai visto in città. Organizzeremo per il 17 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Present una serata ad ingresso gratuito con tutte le compagnie teatrali dialettali della città, ed è questa la prima volta che succede, quindi di questo siamo anche molto contenti e orgogliosi, che con vari sketch di diverso tipo porteranno avanti e spiegheranno perché è importante salvaguardare il nostro dialetto. Se siamo diventati quello che siamo è grazie ai nostri antenati, ai nostri nonni, e quindi tutto questo è un bagaglio assolutamente da salvaguardare. Quindi il Comune, questa è solo una prima attività, una prima iniziativa che porterà avanti, ce ne saranno tante nel corso degli anni, partiamo con questa, perché noi vogliamo assolutamente salvaguardare l'identità e tradizione della nostra città. Canzoni, poesie, monologhi, dialoghi e addirittura cortometraggi. Agnepartuti insomma, un appuntamento in salsa piacentina garantito dall'unione di tutte le compagnie dialettali, dalla filodrammatica Garibattini all'immancabile famiglia Piesinteina, passando per la filodrammatica Egidio Carella e la filodrammatica Turis, fino ad arrivare alla filodrammatica piacentina e all'associazione culturale tra attori, senza dimenticare però che ci saranno anche i giovani della classe quinta C della scuola primaria Giordani. È un'occasione straordinaria in tanti anni nei quali io mi dedico al dialetto, è la prima volta che ho questa soddisfazione per la nostra città di vedere tutte queste bravissime compagnie, ognuna con la propria peculiarità, lavorare assieme per il bene della nostra tradizione e della nostra lingua da non dimenticare. L'obiettivo di questo primo appuntamento è quello di... Creare un punto fermo nel corso dell'anno di cooperazione fra tutti coloro che si impegnano, dedicano tempo e grandi competenze al dialetto. Quanto è importante il dialetto? Quanto può essere importante per le nuove generazioni nel mondo moderno? Ma il dialetto è importante perché a lei è la lingua madre, ogni città ha il suo dialetto e in piazza risalga il suo dialetto, ma purtroppo però i giovani sono stati una botta, vengono fuori a parlare, anche perché in casa parla a parlare. Però mi spero che insomma in seguito con qualche iniziativa che si possa tirare avanti abbastanza bene. Grazie. 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 Grazie.